Produzione artigianale, pellame di altissima qualità qui al mercatino di Natale, tradizionale di Piazza San Jacopo. Sì, io e mio compagno siamo artigiani e sono 30 anni che lavoriamo nella pelletteria e non solo, anche nel tessuto. Io vengo dalla tradizione artigiana della mia mamma, che era una ricamatrice, e quindi ho appreso da giovane la capacità di creare con le nostre mani e quindi abbiamo messo insieme, io e mio compagno, i nostri saperi e sono venute fuori borse, delle cinture in cuoio, tutte di alta qualità e in più la parte del tessuto. Quindi io mi occupo della parte in tessuto, lui si occupa della parte del pellame. Borse, cinture, le fasce carinissime, con dentro questo filo d'alluminio che permette di fare anche delle acconciature un pochino fuori dall'usuale, un po' diverse. Poi faccio dei fantastici cerchietti per bambine, questi usando macchinari da recamo elettronici, macchine elettroniche da recamo, poi le ritaglio tutte a mano, infatti c'è anche una piccola parte di questi cerchietti che produco principalmente per l'estate. E poi ci sono gli sciarpucci, che è una sciarpa con un cappuccio, praticamente si può portarla sia a sciarpa che coprendosi. Insomma, la testa è caldissime perché uso il pile, che è il sintetico, che è un tessuto tecnico appunto studiato per tenere caldo. Tutto qua, vi aspettiamo a vedere i nostri prodotti artigianali, fatti con amore. Ricordiamo fino alla Befana. Fino alla Befana e oltre, fino al 9 di gennaio siamo qua. Grazie tante.